Grazie a tutti. Il primo intervento l'ho eseguito il 29 ottobre e il secondo il primo giugno, quindi 20 giorni fa. Per quanto riguarda già dal primo intervento ho avuto notevoli miglioramenti, notati e messi in cartella clinica da chi mi seguiva, praticamente che parlava anche di una riduzione della scala DSS, che è la scala di valutazione della sclerosi multipla. E poi era rimasto qualche problemino su una giugolare che l'abbiamo ridotta adesso con l'ultimo intervento, che è venuto il primo giugno. Come è venuto a conoscenza di questa tipologia di intervento? Allora, faccio il fisioterapista, quindi praticamente mi arrivano delle informazioni da tutti i canali che seguo. Sono venuto a conoscenza soprattutto tramite il canale internet e poi verificando i vari cari canali sono venuto a conoscenza del dottor Gargano. Ho saputo che stavano facendo questa cosa tramite il loro sito, ho contattato loro direttamente, ho fatto il primo codoppler i primi di settembre e dopodiché abbiamo concordato l'intervento che è avvenuto il 29 ottobre. Che tipi di giovamenti ha da subito avuto e poi col tempo? Allora, il primo giovamento è stato il recupero totale della forza, dell'agilità del movimento e la scomparsa del mal di testa, che era una delle cose che mi opprimeva di più e mi limitava tantissimo nelle mie attività, anche lavorative, perché svegliarsi la mattina con mal di testa e riprendere il lavoro era una cosa abbastanza difficile. La fatica ridotta notevolmente se non quasi scomparsa e poi l'agilità nel movimento. Ho ripreso molto molto bene e con una riduzione della scala e di SS. Che valutazione dà l'equip del dottore Gargano? Io vengo dalla provincia di Viterbo, che a Napoli ho trovato una seconda famiglia. Questa è la cosa migliore. Ci chiamiamo ormai per nome e la valutazione è ottima di tutta l'equip. Consiglierebbe l'intervento? Assolutamente sì. Tutti i miei pazienti l'ho proposto, hanno visto i risultati che ha portato su di me e loro piano piano si stanno istratando su questa nuova terapia, così se la vogliamo definire. Grazie. Grazie.